Agenda di Mer, 18 gennaio 1964 Ci dovrebbe essere, da qualche parte sulla Terra, un luogo che nessuna nazione abbia il diritto di dire è mio. In cui ogni uomo di buona volontà, che abbia un'aspirazione sincera, possa vivere libero da cittadino del mondo, obbedendo a una sola autorità, quella della verità suprema. Un luogo di pace, di concordia, di armonia. In cui tutti gli istinti bellicosi dell'uomo vengano sfruttati unicamente per vincere le cause delle sue sofferenze e delle sue miserie. Per superare le sue debolezze e le sue ignoranze, per trionfare dei suoi limiti e delle sue incapacità. Un luogo in cui i bisogni dello spirito e la sete di progresso predominino sul soddisfacimento dei desideri e delle passioni, sulla ricerca dei piaceri e dei godimenti materiali. In un posto così, i bambini potrebbero crescere e svilupparsi integralmente, senza perdere il contatto con la loro anima. L'istruzione dovrebbe servire non allo scopo di superare degli esami, conseguire un diploma e procurarsi un buon posto, ma per arricchire facoltà già esistenti e per farne nascere di nuove. In questo luogo, i titoli e le posizioni personali dovrebbero essere sostituiti da occasioni di mettersi al servizio e di esplicare le proprie capacità organizzative. Ai bisogni del corpo si dovrebbe provvedere in modo uguale per tutti, mentre la superiorità intellettuale, morale e spirituale dovrebbe tradursi nell'organizzazione generale non in un incremento dei piaceri e dei poteri della vita, ma in accresciuti doveri e responsabilità. La bellezza, sotto tutte le sue espressioni artistiche, pittura, scultura, musica, letteratura, dovrebbe essere accessibile a tutti in ugual misura, mentre l'opportunità di partecipare alle gioie che ne derivano dovrebbe avere come limite non la posizione sociale o finanziaria, di ciascun individuo, ma unicamente le sue capacità. In questo luogo ideale, infatti, il denaro non dovrà essere più sovrano, padrone. Il valore individuale avrà un'importanza ben maggiore di quella delle ricchezze materiali e della posizione sociale. Il lavoro non sarà più il mezzo per guadagnarsi da vivere, ma il modo per esprimere se stessi e per sviluppare le proprie capacità e potenzialità, rendendone il contempo servizio all'insieme del gruppo, che da parte sua dovrà provvedere ai bisogni dell'esistenza e al campo d'azione di ciascuno. Riassumendo, dovrebbe essere un posto in cui i rapporti fra gli esseri umani, basati di solito quasi esclusivamente sulla concorrenza e la lotta, vengano sostituiti da rapporti di emulazione a fare sempre meglio, di collaborazione e di autentica fraternità. La Terra non è pronta per realizzare un simile ideale appunto perché l'umanità non possiede ancora la conoscenza sufficiente per comprenderlo e farlo proprio, né ha la forza cosciente indispensabile per portarlo a compimento. Ecco perché lo chiamo un sogno. Eppure questo sogno sta diventando una realtà. E quanto cerchiamo di fare su piccolissima scala alla misura dei nostri mezzi ridotti nell'ashram di Shri Aurobindo. La realizzazione è certo lungi dall'essere perfetta, ma è progressiva. E a poco a poco procediamo verso il nostro scopo, che, lo speriamo, potrà un giorno venire presentato al mondo come un mezzo pratico ed efficace per uscire dal caos attuale e per nascere a una nuova vita più armoniosa e più vera. Quattro anni dopo nasce Auroville e la carta di Auroville è composta di quattro punti. Questa carta è stata, per chi non lo sapesse, è stata letta da Mer nella sua stanza in diretta su Auroville che ascoltava la sua voce in francese e in inglese. È un momento storico questo della nascita di Auroville e chi è stato lì, ha avuto la fortuna di essere lì quel giorno, ricorda quel momento come il più incredibile ed eccezionale della sua vita. Dunque Mer dice Auroville non appartiene a nessuno in particolare. Auroville appartiene all'umanità nella sua totalità. Ma per vivere ad Auroville si deve essere il servitore volontario della coscienza divina. Auroville sarà il luogo di un'educazione senza fine, di un progresso continuo e di una giovinezza senza vecchiaia. Auroville vuole essere il ponte tra il passato e il futuro. Approfittando di tutte le scoperte esteriori e interiori Auroville vuole lanciarsi con coraggio verso le realizzazioni a venire. Auroville Auroville sarà un luogo di ricerca materiale e spirituale per dare un corpo vivente ad una vera unità umana. Questa è la carta di Auroville. Auroville vuole essere una città universale in cui uomini e donne di tutti i paesi possono vivere in pace e armonia progressiva al di là di ogni credo politica e nazionalità. Lo scopo di Auroville è quello di realizzare l'unità umana. da Mer la mutazione della morte di Satvrem capitolo 5 il miracolo della terra Auroville è una grande avventura lei diceva la vediamo ancora appollaiata su uno sgabelletto in piedi mentre sta scrivendo la carta di Auroville sul davanzale della finestra armata di una grande pergamena e di un pennarello di feltro troppo grosso che faceva somigliare la sua scrittura a dei caratteri cuneiformi. non ci metto cose solenni aveva premesso voltandosi a metà verso di noi e c'era sempre nei suoi occhi quella piccola malizia divertita Auroville non appartiene a nessuno in particolare Auroville appartiene a tutta l'umanità nel suo insieme non ci ho messo a nessun paese perché l'India se ne avrebbe terribilmente a male ma l'idea era quella nessun paese anzi soprattutto niente nazioni niente frontiere niente passaporti e i quattro semplici paragrafi un po' cuneiformi proseguivano mentre di quando in quando la madre chiudeva gli occhi per vederci meglio poi ci spiegava niente polizia niente esercito niente religioni oh com'era bello immaginare quel punto franco su una terra in cui persino le foreste vergini sono cinte di fili spinati una terra in cui tutto è questo è mio e dove anche i templi sono di qualcuno dove non esistono nient'altro che piccoli io bardati di cuoio poliziesco e diceva tanto per cominciare abolizione dell'eredità niente proprietà personale niente danaro la prima legge di Auroville un io più vasto che fosse con leggerezza se stesso dovunque e in tutto ma bisognava imparare il trucco del non io la piccola vibrazione che corre dovunque è una specie d'adattamento del sistema comunista osservava la madre ma non secondo uno spirito di livellamento bensì a seconda delle capacità della posizione non psicologica né intellettuale interiore di ciascuno basta con la gerarchia dei fantasmi la gerarchia vera quella della realtà interiore quella della densità interiore non quella del conto in banca e delle false lauree e la realtà del lavoro ma il lavoro diceva può essere un lavoro interiore a dire il vero la partecipazione al benessere all'esistenza della città intera non è qualcosa da calcolare individualmente tipo il tale deve dare tot non è affatto così ma da calcolare secondo i mezzi l'attività le possibilità produttive non si tratta dell'idea democratica di dividere tutto in pezzetti uguali che è un meccanismo assurdo ma di calcolare tutto secondo i mezzi chi ha molto molte capacità dà molto e chi ha poco dà poco chi è forte lavora molto e chi non lo è fa un'altra cosa si tratta insomma di qualcosa di più vero di più profondo bisogna che sia una cosa viva e vera non una cosa meccanica bisogna organizzare le cose in modo tale da provvedere alle necessità materiali di tutti non secondo le idee di diritto e di uguaglianza ma partendo dalle necessità più elementari non si paga per il cibo ma bisogna dare lavoro o un qualsiasi contributo e così una volta stabilito questo ognuno deve essere libero di organizzare la propria vita non a seconda delle proprie risorse finanziarie ma a seconda delle proprie capacità interiori e niente regole niente leggi cosa che un certo numero di rappresentanti si sono affrettati a prendere per libertà di fare la prima cosa che salta in testa ma non si bara con il potere succede infatti uno strano fenomeno i bari finiscono come per espellersi da soli si auto escludono e così d'un tratto ne hanno abbastanza non possono più restare è semplice e categorico tutto si smaschera non c'è bisogno di tribunali è qualcosa che sgorga da dentro ed è la vera legge del mondo futuro tutto sgorga da dentro e allora si tratta di qualcosa di invisibile in quanto è opera di noi stessi si impara un'opera sempre più perfetta tutto qui e infine la sola gioia è compiere l'opera perfetta quale che sia l'opera di se stessi e lei dice di solito finora e sempre di più gli uomini stabiliscono delle regole mentali secondo le loro concezioni il loro ideale e poi le applicano ma è un comportamento falso arbitrario irreale e il risultato è che le cose si ribellano oppure deperiscono e scompaiono ma è l'esperienza della vita stessa a dover lentamente elaborare regole il più elastiche e ampie possibili in modo da essere da essere sempre progressive non ci deve essere niente di rigido l'immenso errore di tutti i governi è quello di creare uno schema e di dire ecco stabilito il tale schema dobbiamo dobbiamo conformarvi la nostra vita e allora naturalmente la vita viene schiacciata e le si impedisce di progredire deve essere la vita stessa sviluppandosi sempre più progressivamente verso la luce la conoscenza il potere a stabilire un poco alla volta regole il più generali possibile che siano estremamente elastiche e che possano mutare col mutare dei bisogni e delle abitudini e con altrettanta rapidità in fondo il problema si riduce quasi a una cosa solida sostituire il governo mentale dell'intelletto col governo di una coscienza spiritualizzata questa delegalizzazione della mente deve scendere fin dentro il corpo è questa l'esperienza ultima di Auroville non una nuova società ma un tipo nuovo e lei dice il corpo sta imparando appunto a sostituire il governo mentale dell'intelletto con il governo spirituale della coscienza e questa è una differenza talmente enorme da centuplicare le possibilità del corpo quando il corpo è sottoposto a delle regole per larghe e comprensive che siano resta schiavo di quelle regole e le sue facoltà sono limitate ma quando è retto dallo spirito e dalla coscienza ha una possibilità e una flessibilità incomparabili è questo che gli darà la capacità di prolungare la propria vita le necessità hanno perso ogni potere per cui il corpo può adattarsi in un modo o nell'altro perché tutte le leggi che erano leggi della natura hanno perso quello che potremmo chiamare il loro potere dispotico basta essere continuamente elastici attenti e responsivi all'influsso della coscienza della coscienza in tutto il suo potere per passare attraverso tutto ciò con un'elasticità straordinaria è una scoperta che diventa sempre più chiara è una scoperta stupenda davvero è come una vittoria progressiva su tutti gli imperativi allora tutte le leggi della natura e naturalmente tutte le leggi umane tutte le abitudini tutte le leggi si ammorbidiscono e finiscono per diventare inesistenti e alla fine si vede che col perfezionarsi di tale processo il quale si perfeziona nel senso che diventa integrale totale senza lasciar fuori nulla si avvicina inevitabilmente per forza di cose la vittoria sulla morte non che il dissolvimento delle cellule non debba esistere più ma esisterebbe solo ove si renda necessario non come legge assoluta ma come uno dei mezzi cioè quando si rendesse necessario e Satfrem dice infatti senz'altro il mezzo della morte è dovuto unicamente ed esclusivamente all'incapacità di progredire la morte è la demolizione della prigione della gabbia parkinsonizzata per poter andare oltre è la sua unica ragione d'essere evolutiva non si muore mai di cancro no si muore di fossilizzazione della coscienza in un certo tipo di esperienza la morte non fa altro che combattere la morte e mer dice soprattutto questo tutto ciò che la mente ha portato di rigido e di assoluto quasi di invincibile finirà per sparire semplicemente col passaggio dei pieni poteri alla coscienza suprema e Satprem dice un campo di prova di sovversione mentale fin nelle cellule l'ultima sedizione e affinché lo sforzo evolutivo si aggrappi a qualcosa di concreto secondo le norme umane alla maniera degli antichi faraoni e dei cavalieri medioevali che dovevano superare la prova questi aurovilliani hanno ricevuto quale primo compito la costruzione di un centro simbolico attorno al segno di Sharia Aurobindo come un enorme bocciolo di loto che esce dalla terra Aurobindo in sanscrito Aravinda significa loto dal fango di questa terra in cui deve infiltrarsi la coscienza vera la coscienza di verità sovramentale è quanto la madre chiamava col suo incantevole umorismo la torre di Babele alla rovescia per costruire si sono divisi ed ecco che adesso per costruire si sono riuniti ecco di che si tratta di una torre di Babele alla rovescia e Saprem dice disferimo la Babele mentale ecco la grande domanda del ventunesimo secolo alle porte e in verità è proprio questa la domanda postaci dall'evoluzione era il febbraio del 1968 una strana ondata ha percorso il mondo in quell'anno a l'evoluzione a l'evoluzione l'evoluzione Grazie a tutti